Sì, 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 sì Sì, 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 sì Sì, 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 sì Ma non so il vero E io cosa vorrei dire? Qua? E allora dovrei dire che c'è un fista E allora dovrei dire questo Due molite Due molite Sai quante cose Allora, allora, sai quante cose io faccio nel mio lavoro che io non potrei fare e lo faccio? E non dico niente Lo sai quante cose hai fatto? La macchina non è mia Il proprietario domani ve ne prende Domani ve ne prende solo te ne prezzi Ma sto rifiutando, lo devo fare, ma se mi scappa a dominare Lo sai che devo dire logoroico? Lo sai che devo dire? Eh appunto Come se mi dicesse che sono pesanti Logoroico è così La definizione di logoroico Allora, qual è il sistema? Guarda che io non sono stupido Guarda che io non sono stupido No Adesso qui tiriamo fuori i soldi e ci andiamo fuori i coglioni, va bene? Ma chi è che l'ha fatto il danno? Voi voi, se stavate a casa non succederà questo casino. Bisogna pagarmi questi soldi. Bullo, io tiro fuori i soldi, non mi otterò. Ma che prendi l'avvocato per 80 euro? Allora, pago tutto io, pago tutto io, pago tutto io. Ti tiro tutto in faccia adesso. Chi è che ha risposto? Chi è che gli 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 ha risposto io? Chi è che gli ha risposto? Chi è che gli ha risposto? Chi è gli vuoi? La macchina non ce la portano via. Io la macchina la riporto ad Andorra con che diritto. Non devi pagare perché non l'ho chiamato io. Non l'ho chiamato io. Non l'ho dichiamato un cazzo io. Io l'ho dichiarato un cazzo, hai capito? Io l'ho dichiarato un cazzo. Io non l'ho chiamato con attrezzi. Hai capito? Che cosa sta facendo? Rimangiamo qua. Tutto adesso. La macchina rimane qua. Poi ci aggiustiamo a casa quando vi rilassate un attimo. Perché qua tra un po' si non l'ha piantate. Mi diamo tutti il caserno. Poi lo chiamiamo tu mio padre. Adesso basta, va bene? Adesso si. Adesso basta. Si si rilassate lì. No. Questo è un ringraziamento. Io vado via a lei. Questo è il cuore. Io non ho pagato il cazzo. Ora meggi ho pagato io. E dov'è? Ma cagare. Ti sei visto cosa facciamo? Mi carico in macchina, mi putto a mare, mi affogate e mi porto una macchina a casa. Ci vediamo. Spero non lo. Spero non lo vedessi mai più. Vandila fuori. Vandila fuori. Sono numero uno. Viva la camorra. Ci vediamo. Un venice o un altro. Un conseguente come dì? C'è la stessa. Ciao. Ciao.